Grave incidente questa mattina intorno alle ore 8 sulla statale 115 nei pressi del Baio Basile. Coinvolte 4 auto che si sono praticamente distrutte, come si evince dalle immagini. Una Kia Sportage, una Lancia Ypsilon, una Kia Rio e un Opel Corsa. Ancora una volta questa strada si dimostra teatro di incidenti veramente drammatici. Le persone all'interno delle auto sono state trasportate immediatamente dal 118 all'ospedale di Mazzara del Vallo. Sul posto subito sono arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.